Consumo più ordinato di alcolici nelle piazze, quindi si potrà consumare solo all'interno dei bar o dei plateatici. Cosa ne pensi di questa decisione presa da Bitonci? Beh, io in linea generale delego la responsabilità a chi beve, quindi sono molto scettico riguardo a delle misure prese ad ampio spettro. Direi più controlli mirati sulle situazioni, caso per caso. Bere così fuori non è il massimo, però a me non interessa. Favorevole, perché comunque è giusto rispetto alle altre persone. Secondo me quando si comprano da bere che possano essere alcolici o non alcolici è giusto consumarli dove si li compra. Quindi non girare con bottiglie perché poi comunque vengono buttate per strada. Abito in centro, in via San Girolamo 21, è veramente, guardi, non se ne può più di tutti quei ragazzi davanti ai bar, è sporco che fanno, tutto così. Fa bene, perfetto. Se non sono in grado di tenere pulito, va bene portarsi da casa, se poi però lasci in giro è giusto così. Si vede che non aveva alternative. Beh, penso che abbia avuto ragione perché comunque è abbastanza rischioso per noi giovani consumare al di fuori, però non vorrei che questa nuova decisione limitasse troppo il volere di fare dei giovani d'oggi, che comunque è un metodo, un modo per divertirsi, ritrovarsi, uscire di sera e bere qualcosa tutti insieme senza esagerare ovviamente. E invece sul consumo di alcol dei minori il sindaco ha deciso che i responsabili saranno oltre che i baristi e anche i genitori che verranno multati dopo gli episodi degli ultimi tempi. Beh, i genitori, comunque anche se essendo ragazzi minorenni, comunque sappiamo quello che facciamo, quindi fino a un certo punto potranno incolpare i nostri genitori. Comunque ciò che facciamo sappiamo le conseguenze, quindi dovremmo risponderne noi stessi. Beh, fa un po' ridere perché un minore, anche se viene multato comunque la multa al 90% la paga il genitore, è più un discorso formale, insomma, un cavillo quasi, lo considero. Secondo me è meglio così, anche se secondo me neanche nei bar dovrebbero vendere gli alcolici ai minorenni o cose simili, però è meglio così, almeno c'è un po' più di ordine. Sì, anche secondo me è meglio, assolutamente. Perché? Perché c'è più ordine, intanto perché si vedono ragazzi di 15 anni che bevono e secondo me non è un bello spettacolo.